Sono Elisabetta Ripa, sono amministratore delegato di Open Fiber. Open Fiber è la società che sta cablando il paese. Stiamo realizzando una rete interamente in fibra ottica per tutta l'Italia. Oggi festeggiamo un giorno importante perché completiamo la copertura di Bari. Bari è stata una delle prime città che abbiamo iniziato a coprire con questa rete interamente in fibra ottica. Quindi ci faceva piacere con il sindaco celebrare questo momento che chiude la prima fase e avvia la seconda fase più importante per i consumatori e per i cittadini di Bari. Quello che stiamo realizzando è una grande infrastruttura, una grande autostrada digitale che connetterà tutti, ma proprio tutti i nostri cittadini a un'infrastruttura a prova di futuro che abiliterà un set di servizi innovativi, la telesorveglianza, la telemedicina, tutto un mondo di applicazioni che sicuramente consentiranno al paese di fare un salto in avanti in termini di efficienza e in termini di produttività. Grazie a tutti.